Una delle attività fondamentali svolte da Camera di Commercio di Firenze attraverso la sua azienda speciale Metropoli è quella dell'internazionalizzazione, cioè la promozione delle imprese fiorentine nei mercati esteri, grazie agli 11 desk sparsi in tutto il mondo. Le aziende, rivolgendosi agli uffici di Metropoli a Firenze, possono usufruire di questi nostri colleghi che vivono all'estero per promuovere i propri prodotti, presentarsi e ricercare contatti, partner commerciali e qualunque altro tipo di contatto utile a sviluppare business. La nostra principale attività è aiutare a fare i primi passi alle aziende toscane sul mercato russo. L'Italia è un partner molto importante commerciale della Russia, è un partner numero due o tre, ogni tanto si scambia questo posto con la Germania. Tra i settori dove gli italiani sono fortissimi e direi imbattibili sono i settori ovviamente moda, settori mobile, arredo design, senza ombra di dubbio alimentare, vino e comunque in generale beni del largo consumo. Questo è il desk Cina, si occupa anche di aiutare le aziende per registrare il marchio in Cina, registrare il domain name o il website in Cina e aiutare le aziende a verificare se un potenziale partner cinese sia valido, sia affidabile, aiutare anche le aziende a fare una ricerca più specifica sul mercato cinese e aiutare anche le aziende a fare registrazione di una struttura in Cina che si tratta di un ufficio rappresentanza o un'azienda commercio oppure un joint venture oppure intitura un'azienda completa italiana. Mi sembra un'esperienza molto utile quella che sta mettendo in piedi i metropoli, mettendo a sistema agli uffici che ha in giro per il mondo a vantaggio delle imprese toscane, è sempre più importante per le imprese trovare mercati di sbocco anche lontano dall'Europa. Poter disporre di uffici nostri ci consente di poter mettere a vantaggio delle aziende del nostro territorio una preanalisi, quella che noi chiamiamo preanalisi, gratuita, ossia possiamo incontrare presso i nostri uffici le aziende toscane che intendono internazionalizzarsi e valutare con il nostro personale degli uffici esteri la capacità del prodotto di entrare nel mercato desiderato dall'azienda.